Pace e bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! Gesù ha iniziato la sua missione pubblica, annuncia la buona novella del regno, si prende cura, libera e guarisce la vita di coloro che lo accolgono. Noi da questo brano cogliamo tre preziose coordinate per riscoprire quanto sia bello seguirlo. Zoomiamo l'attenzione sulla chiamata dei primi discepoli. Anzitutto l'Evangelista ci dice che Gesù passa, vede e chiama, ci ricorda cioè che l'iniziativa è sempre di Dio e lui che ci viene incontro, ci cerca e ci chiama perché ci ama. Gesù passa, cammina. Nella nostra comunità abbiamo molto l'immagine di Gesù viandante. I primi cristiani erano chiamati quelli della via, quelli che appartengono a Gesù, che lo seguono camminando insieme, che si lasciano condurre da lui verso una pienezza, verso la loro meta che è il padre. Ecco Gesù passa e vede. Cosa vede? Dei pescatori? No, lui vede dei pescatori di uomini. Cioè come ci guarda il Signore? Come ti guarda? Come la somma dei tuoi difetti? Come l'insieme delle tue problematiche? Ti guarda con una misura giudicante molto ristretta? No, ti guarda come un innamorato e quando una persona ama vede la bellezza dell'amato e vede il potenziale di bene. Ecco lui che è Dio vede la nostra verità più profonda, vede la bellezza scritta nei nostri cuori, vede il potenziale di bene che c'è in ciascuno. Uno che è andato a chiamare San Paolo mentre perseguitava i cristiani, capite bene che è uno che sa guardare oltre il momento, oltre quello che semplicemente vede l'uomo. La scrittura dice noi guardiamo spesso l'apparenza, Dio guarda il cuore. Quindi il Signore passa, vede e chiama i discepoli. Vedete miei cari, da cosa nasce la fede cristiana? Nasce da un incontro con Gesù. La fede non è soltanto un sentimento, coinvolge anche la sfera sentimentale certo, ma non è soltanto una consolazione psicologica, cioè il pensare che c'è qualcuno. Non è neanche frutto di una educazione, certo qualcuno mi ha trasmesso magari in famiglia la fede, questo è un tesoro grande, ma la fede nasce da un incontro. C'è un momento nella vita in cui io ho aderito a Cristo, in cui ho detto il mio sì e da quel momento ho iniziato a seguirlo. È qualcosa che coinvolge intelletto, sentimento, volontà e adesione a qualcuno, fiducia in qualcuno. È un po' come un innamoramento, miei cari, io non mi innamoro di una persona solo perché qualcuno me ne ha parlato, ma perché io l'ho incontrata questa persona, l'ho frequentata ed è nata una relazione, una relazione d'amore, di fiducia reciproca che cresce nel tempo. Così è con il Signore Gesù. Ma cosa vuol dire questo averlo incontrato? Significa che in un momento della mia vita ne ho percepito il passaggio e ho aderito a Lui. E questo momento può avere il volto di qualcuno che me ne ha parlato e quella parola mi ha toccato. Può essere accaduto in un momento di preghiera, magari ho riscoperto la preghiera in un momento difficile, oppure leggendo un libro, o magari riprendendo in mano il Vangelo. Insomma, un momento dove la mia fede è diventata viva, in cui ho detto il mio sì a qualcuno. La prima domanda bella allora è quando è che ho incontrato Gesù? Quando è che gli ho detto il mio sì? E questo vale anche nel caso della chiamata, nel caso di due sposi. Come abbiamo capito che Gesù ci chiamava a seguirlo nel matrimonio? E per un sacerdote, un consacrato, una consacrata, come mi ha chiamato il Signore? Ecco, far memoria del passaggio di Dio nella propria vita. Rianima, riaccende il cuore. Quindi, primo punto, la fede nasce da un incontro e il Signore, vi dicevo, ci rivolge una parola, ci chiama. Ecco il secondo punto. Gesù chiama i suoi discepoli e cosa dice loro? Seguitemi. E poi una promessa, vi farò diventare pescatori di uomini. Cosa è essere cristiani? Seguire Gesù. E che vuol dire seguire Gesù? La parola seguire ha a che fare con il rapporto maestro-discepolo. A quel tempo, il discepolo andava a vivere con il maestro, stava con il maestro, ascoltava e osservava il maestro per fare come il maestro. Questo vuol dire seguire Gesù. Stare con lui, ascoltarlo, vederlo e imitarlo. Si sta con Gesù frequentandolo. Come? Ecco la preghiera, ecco soprattutto la celebrazione eucaristica, i sacramenti. Si sta con lui e lo si conosce anche attraverso la formazione della nostra fede. Si sta con Gesù frequentando la comunità cristiana, frequentando i poveri, servendoli, riconoscendo in essi il suo volto. Si, ma come si fa ad ascoltarlo e vederlo? Ecco la meditazione del Vangelo, dove ascolto le sue parole e vedo, vedo il suo esempio. E lo si imita, per grazia dello Spirito Santo che infonde in noi i suoi sentimenti. Il cristiano è colui che nelle scelte di ogni giorno dovrebbe chiedersi cosa farebbe Gesù al mio posto. È colui che cerca di seguire le orme del maestro, di imparare da lui l'arte di amare, lasciandosi guidare dalla sua parola, di lavorare su se stesso per dare modo a Dio di regnare nel suo cuore e vivere secondo l'amore. Mie cari, perché è così importante il seguire Gesù? Perché la fede è qualcosa di dinamico, è un cammino di conversione continuo, lasciarmi cambiare nel modo di pensare dal Vangelo per iniziare a vedere le cose con i suoi occhi, iniziare a lasciarmi cambiare nel modo di agire per amare con il suo cuore. Sapete, c'è un rischio, non soltanto quello di essere cattolici non praticanti, ma anche quello di essere praticanti non credenti o poco credenti. Che sia laico, sacerdote, vescovo, aver perso di vista Gesù, la sua sequela, il Vangelo, ridurre tutto a dei riti religiosi, a quattro regole da osservare per sentirmi a posto, punto, ma lasciar regnare il mio io, vivere in preda alla mia mondanità, al mio egoismo, alla mediocrità. No, la vita cristiana è seguire Cristo, che ti chiama e ti promette una cosa. Seguimi, io farò di te un pescatore di uomini. Che vuol dire? Uno che pesca un uomo dal mare vuol dire che lo ha tratto in salvo. Ecco, io farò di te uno strumento di salvezza per altri. Io ti rendo capace di portare il mio amore agli altri, di far sentire gli altri amati da Dio. Ispirerò in te parole che possano servire alla salvezza. Io farò in te un'opera meravigliosa. Perché seguire Cristo? Perché lui faccia della nostra vita un capolavoro d'amore. Quante persone, miei cari, che anche abbiamo conosciuto, che ora frequentano anche la nostra comunità, non soltanto incontrando Gesù sono rifiorite, sono sbocciate, ma ora testimoniano la loro fede, parlano di Gesù agli altri, invitano ad incontrarlo. E tutto questo non per una imposizione o per un senso del dovere, perché è cresciuta un'intimità, una familiarità con lui. Cresce l'amore e quando tu sei innamorato non puoi non mostrarlo, non puoi non parlare della persona che ami. Terzo punto, miei cari, la risposta dei discepoli. Subito lasciate le reti, i primi due. La barca e il padre, gli altri due lo seguirono. Subito c'è questa risposta con prontezza. La carità non ammette lentezze, diceva Sant'Ambrogio. Quante volte purtroppo la nostra vita è segnata da quel micidiale gioco del rimando che a volte facciamo? Percepisci che Gesù ti chiama? Hai meditato il Vangelo del giorno? Ti ha ispirato a muovere un passo in una direzione? Poi? Poi vediamo. Sempre questo poi, come se il poi ci appartenesse. I discepoli con prontezza corrispondono e lasciano perché? Perché hanno trovato il di più, perché c'è qualcosa di più grande a cui Dio li chiama, qualcosa di più bello. La vita cristiana non è anzitutto un lasciare, ma un trovare e se lascio è perché ho trovato il meglio. È bello chiederci quali possono essere queste reti nella mia vita? Ad esempio possono essere i miei schemi, guai a scomodarmi nei miei ritmi. Oppure potrebbero essere le cose a cui sono attaccato, che non sono disposto a donare, a condividere. Oppure gli incarichi che occupo, che mi impediscono di seguire Cristo se mi chiede altro o di andare oltre. Oppure possono essere i miei progetti, che non sono disposto a lasciare. Oppure le mie paure di non farcela, di non essere all'altezza, di restare solo, di non realizzarmi. Quali sono quelle reti che il Signore mi chiama a lasciare? Quali sono quelle cose che il Signore mi chiama a deassolutizzare? Perché? Perché io possa camminare verso una libertà più piena. In conclusione, cari fratelli e sorelle, come ha scritto il Cardinale Ravasi, la decisione importante è allora quella di lasciarsi conquistare, di non fuggire per tutta la vita, di non chiudere sempre gli occhi davanti a tutti i segni, a volte strani e inattesi, che Dio ci fa balenare davanti. Come diceva Sant'Agostino, un uomo che tanto è fuggito da Dio, ma che alla fine si è arreso e totalmente abbandonato a Lui, dobbiamo aver paura di lasciar passare a vuoto Dio davanti alle porte della nostra casa e della nostra vita. Che il Buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti!